Oggi c'è in Camera di Commercio a Pescara questo importante appuntamento per parlare di uno dei mercati emergenti per il nostro mercato, quello cinese. Appuntamento organizzato dall'Istituto Estero delle Camere di Commercio e da Unicredit. Quali sono gli sbocchi? Durante questi dieci anni di crisi abbiamo capito una cosa di sicuro, che si sono irrobustite e salvate le aziende che hanno allargato il loro mercato. Ora, tra i mercati potenziali, quello più interessante, quello più importante, quello più enorme di tutte è la Cina. Ed è interessante perché dopo tanti anni di attività subita da parte della Cina, perché c'è inondato di prodotti a scarsa valore, a scarsa qualità, ma anche a bassissimo prezzo, Oggi si è creata all'incina una classe media numerosa, circa 100 milioni di persone, che ovviamente vogliono consumare prodotti di qualità. E i prodotti italiani sono, così come tutto il mondo, quindi anche lì sono considerati prodotti molto appetiti e molto appetibili. Siccome noi abbiamo una struttura di aziende piuttosto piccola come dimensioni, questo crea una sproporzione tra le dimensioni del mercato e le dimensioni dell'azienda. Quindi bisogna cercare di organizzarsi in qualche modo attraverso piattaforme logistiche, attraverso piattaforme elettroniche, attraverso fare rete. Insomma bisogna creare le condizioni per consentire a una serie di piccoli di poter andare in Cina, perché se ci si riesce e una volta che ci si arriva e ci si installa, è la soluzione del problema.